Aria di casa e di convenienza da Dottolo Mobili. Sfoglia il catalogo online e acquista con una semplice telefonata. Progettiamo insieme i tuoi ambienti da arredare in modo semplice e sicuro. I nostri arredatori sono a tua disposizione per consulenza su preventivi e acquisti. Solo per pochi giorni su ogni cucina progettata, lavatrice o asciugatrice in omaggio. Richiedi un appuntamento con i nostri arredatori per preventivi, progettazione e acquisti a passo di Mirabella. 0825 40 79 98 oppure 0825 40 70 63 Dottolo Mobili, la qualità al giusto prezzo.